Rosarno, laureana di Borrello e gli invadi, e in questo triangolo, dove foglia non si muove se l'andrangheta non lo consente, che maturano il rapimento e l'omicidio di Maria Kindamo, l'imprenditrice sparita dalla sua azienda agricola, il 6 maggio del 2016, ricorreva l'anniversario del suicido del marito, Ferdinando Puntoriero, che non resta la separazione all'inizio di una nuova relazione da parte della moglie. Finora la storia non è mai stata definita per quella che è un caso di Lupara Bianca. Maria rapita, uccisa, e il suo corpo nascosto laddove nessuno può trovarlo, per non lasciare tracce né prove, l'occultamento del cadavere per privarla di una degna sepoltura, una punizione che va oltre quella della morte. Continua ad indagare al momento la procura di Vibo Valencia. Benché il territorio sia notoriamente influenzato dalle cosche regine, qualora emergesse le elementi concreti tali da prefigurare uno scenario mafioso, il caso passerebbe non alla procura antimafia di Reggio Calabria, diretta da Ghetano Paci, ma a quella di Catanzaro e quindi al pool di Nicola Gratteri, stante il rivenimento delle ultime tracce di vita di Maria sulla sua auto rimasta col motore acceso davanti alla tenuta di Limbadi, provincia di Vibo. E una terra di mafia questa e la mafia da queste parti uccide le donne per un perverso senso dell'onore. E in questo triangolo che viene uccisa e fatta sparire proprio come Maria nel 1981 annunziata pesce, punita dalla famiglia per aver incracciato una relazione con un carabiniere. Uccisa e fatta sparire come Francesca Bellocco nel 2013, il figlio della donna, condannato all'ergastolo in quel caso, non risparmiò neppure l'amante. Francesca Bellocco come Maria Rosa Bellocco, nel 1977 ammazzata assieme al figlio di nove anni e al marito, che non aveva avuto il coraggio di lavare nel sangue il tradimento della moglie. Maria era una donna libera e indipendente. Il marito, Ferdinando, un uomo buono, ricorda che chi lo conosceva, non avrebbe mai voluto la sua morte. Altri invece, e il possibile movente e l'unico perno di un'inchiesta che tende una svolta, la libertà di Maria, non l'hanno mai perdonata. Da Vibo Valencia per la Cineus 24